Cioè, tu non puoi capire da dove sono, no? Cioè, vorrei dirti l'interesse che rasenta veramente il meno 5, ma in che senso? Cioè, cosa vuol dire? Ma invece secondo me ti potrebbe interessare. Sei l'immitrofo a me? Vuoi venire qua? Io sono a due minuti da casa tua. Jody, vuoi salire qua? Sarebbe qualcosa di incredibile. Sarebbe veramente bello. Sarebbe veramente incredibile. Ma non voglio dire nient'altro se non ciao. Faccio ciao e poi vado a casa mia. Ciao! No, no. No, no. Ecco, scenditi, scenditi, cazzo. Ciao ragazzi. È una giudata incredibile. Zio, sei troppo alto. Questa è la mia postazione, ti rendi conto? Ma è molto più bella di come si vede da... Ma schifo a cazzo, guardala. Ma tu in questo buio ogni volta stai? Certo. Cerco di guardarmi il meno possibile, Jody, ma tu hai a che fare? Zio, io starei male con tutto questo casino. No, ma io sto bene, io sto bene in questa contingenza. È il mio mondo, Jody. È il mio mondo. Ma va. Eh sì. Ma c'è una sfera bellissima. Sfera molto bella, Giotone. Lascia perdere. Viva la figa. Viva la figa. Sì, sì. Grazie. Guarda perché non ringrazio le salle. Ma dov'è che c'è... Sono queste? Io le vedo così. Ma scusa, ma zio, prenditi un altro schermo. Mettitelo qua. Ma che cazzo dici? Mettelo qua, c'è che c'è la camera. Cosa vedono poi? Qua, qua. Sì, qua, l'obbicico al muro. Ciao, ciao, ragazzi. Va bene. Io il mio lavoro l'ho fatto. Adesso, cosa fai? Torni a casa? Certo.